buongiorno a tutti amici eccoci ritrovati qui con un nuovo video allora questo video non so quando uscirà ma penso domenica uscirà vi volevo far vedere i miei acquisti che ho fatto quando sono andata via quel weekend che sono andata a via reggio pesa e firenze ovviamente quando si va in giro non non si può andare in giro e non portare i capelli e non portarsi non portarsi a casa dei ricordini a parte le calamite che quelle sono un classico volevo far vedere che cosa ho preso allora pisa ovviamente sono venuta a casa con la torre di pisa eccola qua la torre molto molto pendente che sapete che io ogni angolino sulla mia scrivania c'è una mensolina con tutti i ricordini di dove sono stata sempre sempre prendere un soprammobile allora qui c'è scritto buon anno pisano pisa 1173 eccola qua molto carina molto non so se si vede ma è molto pendente la torre questa qua molto molto bella ero dovuta prendere da mettere insieme alle mie cose i miei soprammobili i miei souvenir ecco poi siamo andati a firenze dopo ho preso questo qua che è una cosa bellissima al duomo di firenze vista dal vivo mamma mia questa torre è immensa anche questo cupolone enorme bellissimo piazza del duomo di firenze che c'è scritto qui poi qui dietro c'è scritto mad in italy questo qua lo devo per forza prendere che c'è un modellino è fantastico è super super bello l'ho vista dal vivo infatti nel blog di firenze c'è questa cupolona c'è andatelo a vedere se ancora non l'avete visto poi lì a firenze ovviamente sapete tutti che c'è il david di donatello eccolo qua ho preso soprammobile del david di donatello è vero si vede qualcosa che potrebbe dar fastidio però questa signori e arte questa qui è arte e quindi il david di donatello è molto molto famoso e niente scrivetevi nei commenti se anche voi non so se hanno disattivato i commenti sinceramente su youtube perché c'è questa cosa qua dei bambini non lo so comunque se riuscite a commentare scrivetemi se anche voi siete stati a piso firenze voi avete visitato e due se vi è piaciuta se siete riusciti a vedere il david di donatello perché io ho preso la statuina qua di ricordo ma non sono riuscita andarlo a vedere perché c'era tanto tanto pieno pieno così c'era e niente noi ci vediamo con un prossimo video prossimamente penso proprio che questo video uscirà domenica perché domani sabato ne uscirà un altro io domani sono questa fiera del fanny niente quindi noi ci vediamo domenica con questo video poi lunedì ci sarà un altro video e martedì continueremo con i videogiochi da fortnite ciao a tutti